Buongiorno a tutti, sono Ursula Gandini, direttore dell'ente del turismo di Bruxelles. Bruxelles, un city break a la portata di tutti. Bruxelles, una capitale vero, la capitale che spesso volentieri è vista come una capitale, la capitale europea, ma che ha tutta una serie di sfaccettature che non sono conosciute dal mercato. Cosa vuol dire? La Bruxelles dei brusellesi, perché innanzitutto è una città, una città dove ha la portata di tutti, famiglie, bambini, persone single, coppie, gruppi. Bruxelles puoi mangiare il cioccolato, degustare la birra, puoi andare a visitare i musei. Abbiamo più di 20.000 eventi a Bruxelles. Questi eventi sono organizzati tutto l'anno, a partire dai mercati di Natale, con tutta una serie di eventi che si susseguono. È un city break comodo, veloce. Bruxelles è una città facile, perché comunque è a portata di scarpa, la giri veramente in poco tempo. Dunque tre giorni e due notti sarebbero l'ideale. Ci possiamo mettere anche il Parlamento, perché comunque il Parlamento vive, al di là del lato istituzionale, il Parlamento ha delle serate organizzate nelle piazze. E questo però ve lo lascio scoprire. Le agenzie sono il nostro, come dire, sono il nostro veicolo. Le agenzie hanno una programmazione e preparano una programmazione dettata dagli eventi, dunque in continuitanza di questi eventi qua. Vi aspettiamo, noi ci siamo, siamo pronti.